Professore Giuliano del Politecnico di Torino, Skillab e Politecnico di Torino da molti anni collaborano insieme. Questa volta parliamo di additive manufacturing, ci puoi dire di che cosa si tratta esattamente? L'additive manufacturing è una tecnologia innovativa che è nata negli Stati Uniti alla fine degli anni Ottanta, che si sta trasformando in una moderna tecnica manifatturiera, che è alternativa e complementare i processi convenzionali. È una tecnica che deve essere conosciuta in modo tale che le aziende possano sfruttare al meglio i vantaggi e necessita ovviamente di formazione ad alto livello, come quella prevista nei master in alto prendistato. Quali sono le applicazioni oggi già esistenti? Le applicazioni principali per i polimeri sono nel settore dei prototipi. Per quanto riguarda i metalli, le applicazioni vanno nella produzione di componenti definitivi laddove le serie siano limitate, essenzialmente il settore aerospaziale, il settore biomedicale per il momento, ma con la crescita delle prestazioni delle tecniche sicuramente anche il settore automobilistico e il segmento premium potrà avere dei notevoli benefici da questa tecnologia.